L'alitosi può dipendere da patologie legate al caurale, quali ad esempio la parodontite, la presenza di lesioni cariose o da alterazioni congenite a carico delle mucose che rivestono la nostra bocca, prima tra tutte la lingua. In molti casi la cura dell'alitosi consiste in una semplice seduta di genere orale professionale o nei casi in cui si reputi che questa sia dovuta ad alterazioni a carico della lingua dalla semplice introduzione di uno spazzolino da lingua che permetta una migliore detersione dell'organo stesso. Quindi se il vostro problema è l'alitosi è opportuno effettuare una semplice visita di controllo per individuare le cause che hanno prodotto l'insorgenza del problema, effettuare la scelta terapeutica più idonea e monitorare il decorso del fenomeno nel tempo per evitare una recidiva dello stesso.